signori sono in diretta sono ad acerra volevo denunciare il fatto che i vigili stanno mettendo le multe in un periodo di covid dove ce l'ha ritirata per le 18 si ovvice ma come ci dobbiamo comportare con il fatto che non possiamo scendere di casa a mettere il grattino io sto registrando sono in diretta però non mi sto riprendendo in viso non esiste il parcheggio ad acerra a rossani parcheggio io abito qua al corso italia non abbiamo i pacchi i box auto perché dobbiamo fare il grattino tutta la giornata tutta la già 24 perché abita ad acerra e non ho diritto ad un'agevolazione perché residente non dovete chiederlo a me ah voi ci sono limitati sull'acqua per le persone che non possono faticare non possono scendere da casa e non possono coprire per mettere le grattine e che ne sai se vuoi stare a basso a posto questa è una bella risposta per questa tranne secondo voi è un buon servizio al cittadino ma voi non dovete stare a casa io sto facendo la spesa non è già la cosa puoi pensi che si era venuto a mettere le grattine era buono a loro che stai a basso ma mi stai rispondendo dopo vi faccio vedere l'autocertificazione l'autocertificazione a quale va bene la faccio subito si stai a mettere la certificazione si si è deciso a costruire l'autocertificazione noi società c'è stato adesso pure la prefabria perché stanno mettere la paura da una certificazione c'è non dimmi conto salutata scena a quel punto stanno arrivando io non lo so ma lo faccio prima anche hai fatto tutto manca in assidore, ma ora facciamo, come hai? ma cos'è? ma la coscienza ma cos'è? ma che c'è abbassato? perché c'è abbassato? io qua da 50 centesimi da 50 centesimi se la certificazione ce l'avete a seguire? la certificazione della macchina? la facciamo ora, non so cosa faccio no, perchè? io che lo faccio? questi mettono l'orario sbagliato non lo mettete dopo ma voi che state dicendo? io faccio la macchina mi sono verbale non sto facendo la spesa è la stessa cosa io posso dire questa è la motivazione faccio la macchina io faccio la macchina perchè faccio i documenti? perchè sono sceso a mettere il grattino e voi non dovete stare qui io sono sceso a mettere il grattino come questa? la macchina? la c'è punto la Torino la c'è vista a voi ah, ma ora c'è stato posto la c'è stato posto la c'è stato posto la c'è stato posto la c'è stato posto è normale e perchè la c'è stato posto? perchè sarà sempre così allora quando sarà così come volete mettere il pallo? perchè non sono andato andato a fare le maniche ma ora con questo video che state con me ma non c'è problema dei vostri io non sto ripetendo a voi ma non ti preoccupare ma è una minaccia? no voi che non sapete che sono che ho parlato così ma voi rendete conto quello che state facendo voi state facendo i verbali che non possono scendere da casa che vogliamo vedere? ma ci rendiamo conto se non stanno guardate qua povera gente io vengo rannuttato la mattina non posso scendere a mettere il pallo ma ci rendiamo il pallo perché non posso scendere assurdo guardate qua ma Romo cosa facciamo? ma com'è? io a tempo a tempo ho visto giù a mettere la macchina ho visto giù a mettere la macchina ho visto giù a mettere la macchina guardate qua povera gente ma quale è il motivo? i verbali non si capiscono qua è schifo è uno schifo i verbali non ho più macchine per senza niente ma come vuole il mio annozo? come vogliamo andare avanti? i verbali sulle macchine nel periodo di covid la cerra non lo so assurdo ma voglio vedere il signor Borrelli è solamente sempre il paccheggiatore abusivo forse il sistema è un paccheggiatore ma non lo so ma voglio vedere che fuoco il signor Borrelli capite? cosa è da fare battaglia il signor Borrelli poi ci dicono che nasce l'antistato dicono che c'è l'antistato dopo è uno schifo è molto mi sa chi lo posso però che fuori che gente mi ha minacciato ha detto non ti preoccupare e io non mi preoccupo e che mi ha già preoccupato oramai la vita ci passano tutte cose ti mangiare non mi preoccupare ti mangiare